Sono contento che la squadra mi ha sostenuto, da questo momento nero che c'era, poi le quattro giornate che ho preso, ringrazio la società, il Mista che mi ha dato tanta stima, però sono contento che sono rientrato a giocare la partita e soprattutto che la squadra ha vinto. No, io l'ho detto che la doppietta era mia, però come quando gira bene, gira bene, secondo me l'ho preso io, però lui dice che ha preso lui, quindi è scritto i doppietti di La Padula, quindi purtroppo è quello di La Padula. Spero che rimango qui, qui mi sono trovato molto bene quest'anno con i compagni in città, con i tifosi, con il Mista, la società che mi ha dato tanta stima, quindi tanta fiducia, mi sono trovato molto bene, spero che rimango qui, c'è un progetto molto importante per il futuro, quindi spero con tutto il cuore che rimango qui a Pescara. Sì, ormai questa squadra, palla a terra, come giochiamo noi, è facile fare tre quartista, centrocampista, però tutto l'anno ho fatto tre quartista, adesso sono più abituato a fare la tre quartista e magari sì, adesso sento più tre quartista che mezz'anno, però non è nessun problema se devo fare la mezz'anno. No, l'anno scorso ho fatto nove gol, infatti quest'anno i gol mi mancano, però mi sa che quest'anno ho fatto più, non so, dico sempre a Valerio che non ha segnato neanche lui, quindi noi facciamo sempre le giocate e gli altri segnano, quindi lasciamolo così, che tutto l'anno è andato bene, quindi se rimane così, se non faccio un altro gol e saliamo in Serie A, sarei più di contento.